Il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale dell'autismo, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a proseguire i lavori di coordinamento regionale per l'autismo e del tavolo regionale sulla gestione dell'autismo in soggetti maggiorenni, promuovendo e supportando l'attività delle associazioni genitoriali e dei servizi che si occupano della problematica al fine di diffondere la diagnosi precoce del disturbo nei bambini, garantire la corretta presa in carico sociosanitaria ed educativa.